Rossini TV continua ad accendere le sue telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori e ancora una volta continua a farlo per documentarlo un ingiustificato abbandono di rifiuti. Oggi ci troviamo nelle centralissime via Flacco e via Giusti all'angolo fra queste due vie. In particolare ci troviamo in via Orazio Flacco dove alle mie spalle potete vedere dei bidoni adibiti alla raccolta differenziata, bidoni che però vengono attorniati da tanti rifiuti abbandonati in maniera ingiustificata. C'è di tutto, c'è persino un materasso. Ma non è solo a fianco ai bidoni il problema, anche vicino alle aree di sosta, alle macchine parcheggiate c'è tanta sporcizia, tanti rifiuti abbandonati, non in maniera così clamorosa ma disseminati un po' ovunque. Siamo tra l'altro vicino a un ufficio pubblico come quello dell'ufficio immigrazione della Questura e dunque questo identifica un luogo anche di frequente transito di persone. Ringraziamo i cittadini che ci hanno segnalato questa incuria e accendiamo un riflettore anche verso gli organi preposti alla pulizia di tenere sott'occhio questo luogo troppo dimenticato appunto dalle normali manutenzioni ordinarie.